Ci sono, la mia copertina, sono con la mia squadra, Vincenzo, da Santissimo Salvatore. A breve potrei mettere un mega ultima compa, perché io l'ho fatto, l'ho potuto. Mi dovete girare la bandierina, perché... Inventoliamo un po' la bandierina, com'è dietro? No, 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 è brutta e brutta. Allora, vediamola. Ciao Cosimo, ciao Just Eat, ciao Roma, ciao mamma. Ciao Picenic, aspettiamo i panini, papà.